Beh io lo reputo non un suicidio quello di mio padre ma un omicidio di stato Così papà come tutti gli altri che hanno compiuto questo gesto Lo Stato mi fa paura, non mi sento tutelata, io ho paura di questo Stato Ciao, questo è un addio, è il cuore mio che smette Questi sono infami e sociali Voluti a tavolino da questo disegno criminale di gente che in gruppi ristretti di 200 persone Fanno vivere milioni di persone in queste condizioni Ai posteri non posso che lasciare il mio saluto Vi tolgo la mia voce e non resta che un filmuto L'Italia è un posto magico, l'Italia è il bel paese E invece cado a terra senza più difese E nell'unica vita che hanno, perché non avranno un'altra, hanno questa